E cambiamo decisamente argomento. Centinaia di guide turistiche hanno manifestato a Pompei con presidi agli ingressi del sito archeologico. Striscioni, Cori, un grande giro tondo contro la liberalizzazione della professione prevista da una legge che a breve entrerà in vigore. La norma aprirà il settore ad accompagnatori turistici di altri paesi dell'Unione Europea che, lamentano i manifestanti, non hanno le stesse certificazioni richieste in Italia. Bagarre all'ingresso di un gruppo con guida tedesca, in piazza tutte le sigle sindacali, il presidente regionale ha annunciato la paralisi delle guide nelle festività pasquali qualora dal governo non arrivino soluzioni.